Lo sportello si fa bello è il titolo della campagna informativa scelta per il cambio degli uffici AMT che ora sono nella nuova struttura di piazzale Cimitero 3. Un passo epocale per l'azienda che ha migliorato ambiente e comfort oltre che la tecnologia con servizi online per la richiesta dei permessi e abbonamenti. Lo spostamento è dovuto alle necessità logistiche e soprattutto anche al cambio della tecnologia che abbiamo adottato. La tecnologia che abbiamo messo a disposizione degli utenti consente all'utente di avere un beneficio evidente in termini di tempo e in termini anche di comodità. Abbiamo tolto le file con l'app Filavia Booking App, quindi si può prenotare l'appuntamento allo sportello direttamente senza fare code. Si possono fare i permessi online perché sono stati rinnovati completamente anche quelli e soprattutto oggi non c'è più l'archivio cartaceo come c'era una volta ma abbiamo fatto tutte le pratiche con archivio elettronico, quindi tutto quanto viene scannerizzato e si riesce a gestire esclusivamente online. I permessi gestiti direttamente dallo sportello sono 40.000 ogni anno senza contare i 10.000 online e la presenza immediata del parcheggio sarà comoda per i clienti che eviteranno di girare a vuoto alla ricerca di un posto macchina. Abbiamo finalmente un parcheggio comodo anche alla struttura. Non ci sono più le macchine che devono girare da una parte all'altra per trovare un posto per parcheggiare la macchina. Qui gestiamo oltre 19.000 persone che vengono qui ogni anno. Finalmente queste persone hanno la macchina che possono parcheggiarla direttamente all'interno del parcheggio. Questo significa riuscire a sfruttare, ad inquinare appunto meno, farle girare di meno e farle arrivare comodamente subito in loco.